Ok, lo abbiamo capito, non se ne può più questo bitcoin che sale, poi scende, ti dici un sale, poi scende, basta! E infatti all'interno del video di oggi andremo a capire quali sono gli NFT o soprattutto quali sono i progetti da andare a guardare per riuscire a fare sgay, ok? Quindi, se ti interessa l'argomento, prendi quel dito, schiaccia quel like e arriviamo almeno a 500 like. Lo abbiamo fatto, lo rifaremo e andremo anche oltre, stiamo settando i record ogni singolo video, quindi mi raccomando, dato che non creerò mai corsi di questo tipo su criptovalute, NFT e vi dicendo faccio tutto gratis, incentivami a fare e continuare a fare questi video gratis, come ho parlato, non lo so. Bene, iniziamo subito e tuffiamoci all'interno di questo video perché abbiamo veramente un bel po' di cose da vedere. Allora, innanzitutto andiamo a guardare una panoramica generale di mercato, che cosa sta succedendo. Market Cap a 2.1 triliardi di dollari, siamo scesi leggermente, la dominance di Bitcoin è 40.8, attenzione, Ethereum è 21. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che nonostante le correzioni massicce, massicce per modo di dire, nonostante le correzioni che stiamo avendo, ok? Nonostante le correzioni che stiamo avendo in questo momento, Ethereum riesce comunque in proporzione a vincere la battaglia contro Bitcoin, ok? Ripeto, all'interno dei video di oggi non voglio dilungarmi troppo nel mondo delle cripto perché, sì, è un po' boring in questo momento, ok? Ci si annoia un po' a guardare i movimenti. Vediamo che però, ad esempio, Avalanche, che ricordo aver chiamato intorno ai 50 dollari all'interno del canale YouTube e anche su Instagram oppure Polkadot che ha corretto tanto e sono onesto, sono onesto, io credevo realisticamente di toccare i 100 dollari di Polkadot entro fine dicembre, come credevo realisticamente insieme a tante altre persone di riuscire a raggiungere i 100.000 dollari o comunque vicino ai 100.000 dollari entro la fine dell'anno. Questo non è stato possibile, tuttavia sono convinto che siamo dietro l'angolo, cioè che questo pump dietro l'angolo sarà così tanto veloce, così tanto violento che non ce ne renderemo conto, ok? Questo è quello che io credo, questo è quello che io credo, motivo per il quale non sto vendendo una singola cripto di quelle che ho in portafoglio, ok? Poligon che regge a 2 dollari, straordinario, e vabbè, e tutta una serie di altre cose. Ora, quali sono i ragionamenti che io sto facendo per quel che riguarda il mondo, per quel che riguarda i miei personali investimenti inerenti alle cripto e inerenti all'NFT? Allora, qual è la narrativa che sta andando di moda tra virgolette adesso e che soprattutto nei prossimi anni, a partire proprio da adesso, fino veramente al top del prossimo ciclo, saranno secondo me significativi all'interno di questo mondo? Sono due i trend, metaverso e gaming, metaverso e gaming. Quindi, se noi andiamo a guardare metaverso e gaming, che cosa si sta sviluppando seguendo queste due narrative, ok? Potremmo avere la chance di entrare in determinati progetti facendo le nostre doverose ricerche in maniera completamente intelligente. Perché dico completamente intelligente? Perché tante volte vengono fatte delle decisioni che sono intelligenti da una parte, ma che non si tiene mai in considerazione quelli che sono i downside, ok? Quindi, che cosa sto facendo io? Sto guardando tutti quelli che sono i progetti, ad esempio metaverso, ok? E sto guardando, uno, come si stanno comportando. Due, se trovo un entry price che nel lungo periodo mi può dare veramente un sacco di benefici, ok? Ad esempio, in questo momento Axie Infinity è 95 dollari, ok? Per carità, va benissimo. E potrebbe essere un buon entry price? Sì, certo, assolutamente sì, ok? Tuttavia, se noi andiamo a guardare magari un'ulteriore correzione che potremmo avere, magari di Bitcoin, prima della risalita violenta, io sinceramente sto ancora un po' aspettando. Con il rischio, ovviamente, di perdere questo entry price. Perché sono certo al 100% che tra quattro anni ci guarderemo in dieta e diremo mannaggia a me perché non ho preso a 3 dollari, ok? Quindi io ho una piccola bag di questi, ho una grande bag di altri progetti, però sostanzialmente sto guardando ogni singolo giorno quello che sta succedendo, ok? E quindi vado a guardare quali sono anche i potenziali progetti che magari sono in IDO in questo momento che potrebbero sicuramente raggiungere questa classifica delle cripto più importanti del metaverso in questo momento, ok? Quelle con più capitalizzazione. E ripeto, in questo momento la capitalizzazione di mercato del metaverso è realmente ridicola, ok? È realmente ridicola. Parliamo di 35 billion totali di market cap, cioè è veramente minuscola questa roba qua, ok? È realmente minuscola. Quindi vedremo una crescita esponenziale di questi progetti qua. Ora, per quel che riguarda anche gli NFT invece, cosa che in questo momento soprattutto mi sta dando un sacco di felicità, nonostante, ripeto, le criptovalute in questo momento stiano facendo, ok? Siete d'accordo com'è che in questo momento stiano facendo, eh? Fatemelo sapere, guarda, ok. Gli NFT in questo momento stanno avendo volumi, stanno arrivando i volumi, i volumi che ci aspettavamo e i volumi che io stesso mi aspettavo e che ho anche chiamato all'interno di questo canale. Ora, prima che io ti faccia vedere quello che sta succedendo all'interno del mio protofolio di NFT, voglio ricordarti che non sono un consulente finanziario, devi fare le tue doverose ricerche perché ogni singola cosa che dico è frutto delle mie opinioni, ok? E investo i miei soldi sapendo di poterli perdere. Quindi fai le tue doverose ricerche, ok? Ora, quali sono i progetti che io all'interno del mondo di NFT sto guardando? Qualche settimana fa vi avevo parlato di che cosa? Avevo parlato della mia propensione ad investire costantemente in land. Quindi sì, avevo iniziato con una land, poi ne ho comprate due, poi ne ho comprate tre, poi ne ho comprate quattro, in questo momento ne ho sei, ok? Quindi in questo momento queste qua sono le mie land, ok? Quindi essendo queste qua le mie land, quello che sto facendo è ovviamente andare a trovare sempre degli entry price per poter tenere queste land. Ora, per poter comprare e aumentare il mio portafoglio di queste land, ne ho sei, assolutamente buono, nulla di eccezionale, tuttavia la cosa interessante è che il trend che avevo chiamato qualche settimana fa si sta verificando e si verificherà per quale ragione, adesso lo andiamo a vedere. In questo momento, come potete vedere, io ho tutte offerte a ridosso di un ethereum. Addirittura questa mi hanno offerto un ethereum, ok? Quindi potrei tranquillamente vendere in questo momento, portarmi a casa 4105 dollari. Questa land l'ho pagata 0,57 nove giorni fa, ok? Tutte queste land le ho comprate a una fascia di prezzo di 0,50, ok? E la cosa interessante è che c'erano persone che mi prendevano per il culo «E stai comprando delle land? Mi puoi dire, tu Minecraft è gratis!» «Dioti! Usate il cervello, per favore!» E questo lo va a dimostrare, ok? Tutte queste land le sono state comprate tra i 0,40 e i 0,59. In questo momento potrei venderle tutte a un ethereum. Cosa vuol dire questo? Che ho raddoppiato. Vuol dire 4, 8, 12, 16, 20, 24 mila dollari potrei portarmi a casa in questo momento. Lo faccio? No. Perché? Perché so che la narrativa degli NFT per quel che riguarda, ad esempio, le land, ok? È molto forte e sarà molto forte soprattutto nei prossimi anni. Ripeto, io non sono qua in questo mercato per flippare da un giorno all'altro. Non mi interessa, ok? Non mi interessa. E ho del capitale che posso ovviamente tenere qui fermo per anni. Non mi interessa, potrei anche vederlo giù e non mi farebbe una pienega, ok? Perché? Perché se credo in una cosa, studio una cosa, allora so che potrebbe spaccare nel lungo periodo e quindi sono disposto a tenere soldi. Ora, quali sono le land, i progetti di NFT, di land che hanno sia una narrativa di metaverso, sia una narrativa di gaming, sia una narrativa di acquisizione proprio di land, di territori all'interno del metaverso, ok? Che, per farvela breve, ragazzi, metaverso è un cazzo di mondo parallelo virtuale dove ci possiamo incontrare io e te in questo momento all'interno di un gioco, ad esempio, ok? Fatta proprio in maniera spiccia, 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 spiccia. E, ok, ve lo dice uno che sta sviluppando in questo momento, in questo mondo e che sta soprattutto investendo pesantemente in questo mondo. The Sandbox, ok? Sandbox in questo momento ha un floor price di 3 Ethereum, ok? 2,93. Niente male. Cosa vuol dire? Che per comprarmi un pezzettino di terra come questo, ok? Devo pagare 2,93 Ethereum minimo e poi iniziarci a costruire, ok? Quindi questo è assolutamente buono come progetto, no? Immaginate qua. Io guardavo Sandbox già da un bel po', ok? Però non ero ancora convinto, non ero ancora sicuro. L'ho visto qua, l'ho visto qua a un Ethereum, ma poi l'ho visto qua scendere a 0,6, 0,7. Qui ho visto questo dump addirittura a 0,4, cazzo. A 0,49. Stava a 0,49. Mannaggia me! A 0,49. L'ho visto, ho detto, cacchio, no, non lo so, devo ancora studiarci di più. Vedete, vedete io stesso come non casco nella FOMO, ok? Non casco nella FOMO. Studio, guardo e cerco di capire. Ancora non avevo capito bene tutti i ragionamenti dietro. Avevo loccati degli investimenti su altri NFT che poi ho liquidato con enorme profitto. E allora poi ho detto, bene, devo trovare, non casco qui. Non casco nel tranello della FOMO, del Fear of Missing Out. La maggior parte delle persone compra qua. La maggior parte delle persone compra qua. Perché se qua il floor price medio è arrivato a 3,6, vuol dire che qualcuno ha comprato a 3,6. Ok? Molto, molto, molto semplice. Quindi cosa vuol dire? Che se put a caso dovesse arrivare un momento di correzione a 0,6, sta gente, cazzo, non è bello aver comprato a 3 e poi magari lo rivedi a 0,47. Magari non lo rivedremo più, ok? Però magari troveremo una resistenza, un supporto qua, 1,5. Comunque, però comunque è una roba da tenere in considerazione. Quindi io avendo ovviamente perso, tra virgolette, questo cavallo, ok? Cosa che comunque riprenderò. Io sto guardando adesso l'entry price perché magari il futuro entry price buono potrebbe essere a 2,93 e potrei acquisire, cioè nei miei piani c'è di acquisire alcune land su Sandbox, ok? E quindi sto guardando. Oppure un altro progetto è Decentraland, ok? Se andiamo a guardare ad esempio Decentraland per quel che riguarda NFT, Metaverse e Gaming, in questo momento floor price è a 3,39. Anche qua se andiamo a vedere l'activity, ok? E qui non ci fa vedere il grafico, non so come mai, però anche qua ha 97.000 items, 6.000 owners, quindi non è che mi faccia molto piacere. Cioè, questa è la cosa che non mi piace di Decentraland. Cioè il ratio tra owners e items non mi piace per niente. Non mi piace per niente. Comunque il floor price è di 3,3, ok? Quando gli owners sono pochi rispetto agli items c'è molta più capacità di controllare il prezzo, sia in positivo sia in negativo, ed ecco perché non mi piace tanto, ok? Ora, io ovviamente, avendo studiato questi mondi e avendo nel mio radar il Metaver... Mi sono struzzato. Avendo nel mio radar il Metaverso e l'acquisizione di land, di proprietà nel Metaverso, ho guardato altri progetti e quindi qualche settimana fa vi ho parlato, ragazzi, vi ho detto, e non me ne viene niente in tasca, NFT Worlds. Vediamo se lo trovo qua. No. Vabbè, lo posso... eccolo qua. Di NFT Worlds, ragazzi. NFT Worlds, dal mio punto di vista, è un progetto che può andare addirittura a superare Decentraland, come Floor Price, Decentraland e Sandbox, e l'ho detto quando eravamo a 0,40. Io ho iniziato ad acquisire la prima land a 0,41, ok? E da lì ho continuato a guardare, studiare, capire, bla 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 bla, e ho continuato ad acquisire, 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 fino a quando ne ho prese 6 in questo momento. Il Floor Price, ragazzi, ha 1,3. Cioè, cosa vuol dire? Che è stato fatto quasi un per 3, ok? Ora, io non ho assolutamente intenzione di vendere in questo momento, assolutamente no. Perché? Perché penso che con 10.000 items e ognuna di queste land è gigantesca. Cioè, potete costruire veramente il mondo dentro queste land, ok? Cioè, io stesso sto costruendo il mondo dentro queste land, ok? Stiamo costruendo la land per i Bird's Gang, è tutto work in progress. Tutte queste land mi daranno la possibilità di costruire quello che io voglio, ok? Ognuna di queste, oltretutto, sta producendo un token che viene ridroppato in questo momento. Quindi, ci sono tutta una serie di cose che io, ovviamente, sto andando a guardare. Ma perché funziona? Perché credo vivamente che questi, ad esempio, questo progetto possa veramente spaccare? Perché fa tutta una serie di cose che fanno anche Decentraland e Sandbox, ma, cosa ancora più importante, hanno tutta una serie di utility che, ad esempio, Sandbox o Decentraland non hanno, ok? Quindi qua potete, ad esempio, andarvi a guardare il sito, eccetera, eccetera, About NFT Worlds. Vediamo se c'è, c'era, il... Ecco, NFT Worlds vs Others, ok? Come potete vedere, ci sono alcune cose che non hanno Decentraland e Sandbox. Ad esempio, NFT Worlds è compatibile per giocare su Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, nel Q1 2022. Decentraland e Sandbox no. La voice chat, Decentraland e Sandbox non ce l'ha, noi ce l'abbiamo. Eh, noi, cioè, NFT Worlds ce l'ha. Dico noi perché io sono un holder e sono felice di esserlo. Custom Player Avatar, Wearables, ok, questo c'è. Real Time in Game World Land Editing, ok? Questo ce l'ha. Decentraland e Sandbox no, perché sono complicati, ok? È complicato costruire, ok? Fermo restando che si può costruire, però come vedete qua, Complicated Editor not in Game. Decentraland e Decentraland Servers, questi ce l'hanno. Decentraland e Sandbox no, ok? Blockchain and Web API, Compatibility for in-game interaction, ok? NFT Worlds ce l'ha, questo non ce l'ha. È tutta una serie di cose che ovviamente, Open Support for World Owners Created P2E Systems, ok? Oppure Supports Direct Interaction with Smart Contracts from in-game, ok? È ovviamente il token che in questo momento c'è. Ok, e soprattutto la cosa che a me piace è la supply, ok? La supply bassa determinerà, dal mio punto di vista, il problema di tanti progetti di NFT ad oggi è che per voler essere assolutamente venali, oh cazzo vogliamo fare, vogliamo fare, si tiene una supply super alta. Quindi cosa vuol dire? Che voi guardate, la maggior parte dei progetti hanno una supply di, che ne so, 10.000, 15.000, 20.000, eccetera eccetera, no? Guardate ad esempio anche qua, items, 17.000, ok, 1.000, 10.000, 4.500, già 4.500 è ottimo, 10.000, eh vabbè, non gli puoi dire niente a BoardApe, ok? 5.600, buono, 17.000, 19.000, 46.000, 10.000, 8.900, 7.000, 10.000, 97.000, eccetera eccetera. Quindi vedete come la media è molto alta degli items, ok? E quindi io penso che a parità di progetto, a parità di visione, a parità di potenza, a parità di adoption, tra virgolette, un progetto che ha una scarsità sulla supply maggiore, tipo ad esempio NFT Worlds, ha sicuramente molto più potenziale di crescere in termini di floor price rispetto magari a un sandbox che per carità, senza nulla togliere ovviamente a sandbox, ha magari 103.000 unità. Quindi sostanzialmente hanno magari spacchettato in pezzi molto molto più piccoli e le varie land ti vendono un pezzettino di terra, quindi per fare qualcosa di concreto ne hai bisogno di un po' di più, ok? Quindi ci sono i pro e i contro ovviamente. E se ci facciamo caso, anche nel progetto che stiamo lanciando, che ormai siamo veramente molto vicini, ok? Il 20 di dicembre ci sarà il lancio effettivo per tutte le persone che sono in whitelist, in questo momento la whitelist è terminata, abbiamo completato tutta la whitelist, questo è BirdHeadsGang, abbiamo già parlato, guardare come nella chat ci siano veramente un sacco di persone, siamo in questo momento, mi sto strozzando ragazzi, 7.140 persone, pazzesco, e in whitelist abbiamo già 630 persone, come abbiamo detto il progetto è 100% whitelist, se qualcosa rimane ci sarà il mint in pubblico il 28 di dicembre, ok? E anche qua, come vedete, abbiamo 1333 Genesis, ok? Quindi la supply è veramente piccola, partiamo con una supply molto 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 piccola, e quindi questo ci permetterà in qualche modo di creare una comunità molto più compatta, con degli ideali molto più condivisi e via dicendo. Ci sono un sacco di pro nel tenere una supply bassa, certo, è ovvio che se avessi messo una supply di 10.000, uno dice, ah, fa un sacco di soldi, eh sì sì, ok, però qual è il progetto? Cioè perché stai facendo una cosa? La nostra missione, in questo momento, è quella di creare una community di persone che saranno sempre aggiornate nel mondo delle cripto, nel mondo degli NFT, nel mondo del betaverso, del gaming, si crea veramente una comunità dove si vanno a fare progetti insieme, dove si aiutano magari persone che hanno idee all'interno dei progetti a metterle in atto, ok? A creare connessioni e via dicendo, ok? Quindi se non siete ancora all'interno del Discord, fatelo, perché soprattutto essendo all'interno del Discord avrete la possibilità di rimanere sempre aggiornati, ovviamente, come vi ho detto, la whitelist in questo momento è chiusa, ok? Quindi ci sarà solo, ormai chi è in whitelist è in whitelist, chi non è in whitelist non può più entrare in whitelist, e tuttavia abbiamo creato una riserva di whitelist, perché? Perché qualora qualche persona nella whitelist non dovesse mintare entro il tempo prestabilito il proprio NFT, apriremo per un breve periodo, per 24 ore o poco meno, alle riserve della whitelist, ok? Prima di andare pubblici, ok? Mi sto ammazzando ragazzi, quindi non so cosa mi sta succedendo, va bene, ok? Mi è andato di traverso l'acqua e adesso è così. Quindi ragazzi, io tanto vi dovevo, non posso più andare avanti a fare il video, quindi salvatemi, prendete quel dito, prendete quel dito, schiacciate su quel like e qui in basso trovate il link per gioinare il Discord, per raggiungersi su Discord. Tanto vi dovevo ragazzi, che dire, spero di essere vivo e vederci domani. Ciao ciao!